Ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video, io sono Matteo e dopo tanto ritorniamo su Brawl Stars con un nuovo video, quindi molti dicono che ci sono alcuni glitch per ottenere Legend Eye ed è veramente molto semplice che ho trovato Spike usando un glitch Adesso io mi metto, non ho proprio le giochi, anzi ho scherzato, mi metto comunque le gambe Diva di startare la partita e dovete pubblicarvi una cassa, quindi dovete già avere la cassa punta, io adesso me la voglio fare un po' di cassa Forse manco l'apo io la cassa, vabbè, e si può fare questo glitch però dovete tipo avere Dovete avere o MZ o Jackie, tutti e due vanno bene Infatti io ho MZ Che è veramente semplice questo glitch, l'ho visto da un youtuber americano Allora ragazzi dovete startare una partita, farvi una cassa, oppure anche se ce l'avete, poi la partita dovete farla comunque, anche se avete già una cassa Dovete praticamente, allora se avete dei brawler abbastanza alti, quindi Se avete tipo MZ Jackie a un po' alto Tipo grado 10 andrebbe benissimo, anche 9, 8, 7, 6 Fino al grado 6 di Jackie O anche tipo Grado tipo 6 o 7, 8 Di MZ Anche più in alto, quindi se avete già 20 Va bene comunque, credo Non l'ho testato E quindi Spero che il video vi piaccia e funzioni anche per voi Perché se a me è funzionato con Spike Forse a voi funziona con Leon Allora Se volete vi taglio anche la partita Dato che sarebbe un po' lunga Però non ve la voglio tagliare in modo che voi vedete ogni passaggio E almeno capite che funziona Quindi occhio qui Allora raga Mettete tanti like per questi glitch che faccio Perché ovviamente ne vale la pena Adesso vengo un po' di cassa qui Allora Dovete arrivare tipo primi Primi Quindi se non arrivate primi Non funziona Quindi Arrivate primi Uscite Ok Ecco io per esempio Non riesco a fare la cassa Perché ho figli di gettoni Volendo posso farmi anche questa qui Con qualche Tipo football Una volta fatto questo raga Dovete andare Sul shop Shop E andare su mega cassa E fare Tac Uno Due Tre Quattro Cin E scusate raga Dovete farlo per tipo 20 volte Da quanto mi pare Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Sette Diciotto Cienove Venti Una volta che da 20 Dovete Uscire E dovete Fare un'altra Partita Io questa qui Ve la velocizzerò Cioè Ora la taglio Ve la taglierò E ci vedremo Quando Avevo fatto la partita Ecco raga Ho appena finito la partita Mo Cambio subito Bolle che avevo E E niente Una volta fatta la partita Dovete andare sull'icona Qui E mettere l'icona che volete Quindi Non so Leon Così Dovete fare così Per tante volte Dopo Una volta fatto Dovete Andare su Impostazioni E cambiare la lingua Eccola qui Lingua In Ehm Inglese mi pare Inglese Inglese Questa qui Guarda questa qui Che è difficile Questa qui Questa qui Vada E poi questa qui Dovete cambiare per tante volte E dopo Dovete fare così Per cinque volte Una volta fatto così Anche più di cinque Vabbè All'incirca Quanto l'ho fatto io Ehm Dopo dovete fare Aprire la cassa O Allora Non so se funzionò Con mega casse Con le mega casse Forse Con le casse enormi Non lo so Non lo so Con le ball box In Italia si Allora Dovrebbe andare con le ball box Però di cassa Dovete averne Ottanta e cinque All'incirca Se avete Ottanta e cinque casse Potete farlo In Italia E via Non dovete Apre le tutte Però Tipo sei Sette Ootto Dovete tipo Farlo Perché Vi consiglio Tipo Ottanta e cinque In modo che Se poi non funziona A me non le aprite A qualcuna Forse lo dovete A me ha funzionato Quindi Boh Se volete farlo Anche voi Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale E ciao Ciao